Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video come state ragazzi noi siamo qui per darvi grandi notizie a parte una che ve le spieghiamo un po' la volta ecco il primo aggiornamento si 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 che bei fiorellini che te li ha regalati no chi te li ha regalati adesso questi pappa ah wow me li dai anche a me me dai no va bene ok sono tue come avete visto la prima ci sentiamo qua lauretta si ma c'è il sole davanti non ho gli occhiali la prima news è la piccola aurora allora sapete sapete che ultimamente l'avete vista poco vi avevo spiegato i motivi perché era praticamente impossibile coprirla cioè ovvero fare un video con lei in movimento era qualcosa di davvero particolare ci mettevamo tipo quattro ore per un video di dieci minuti quindi davvero impossibile ciao amore come stai ora tutto è cambiato perché è cambiato starete dicendo perché abbiamo trovato la soluzione sì abbiamo davvero trovato la soluzione scusateci ci mettiamo gli occhiali ma c'è un sole che picchia un sacco abbiamo trovato la soluzione abbiamo trovato un qualcuno un qualcuno che fa il lavoro al posto nostro viene pagato però comunque almeno non non ci stiamo tutta la giornata dietro a diventare pazzi non ci devo stare tutta la giornata dietro perché se sto dietro a montarmi un video non posso stare dietro a pensare le idee eccetera eccetera perché devi concentrarsi tantissimo questo ci alleggerisce il lavoro un sacco infatti vedrete aurora in quasi tutti i video perché abbiamo in testa di fare anche qualche viaggio con lei non vi diciamo ancora niente però l'ultimo viaggio che abbiamo fatto un po come abbiamo annunciato in live sulla piattaforma viola ci è piaciuto un sacco davvero tanto lo vedrete da domani ci sarà il primo vlog del viaggio e quindi vogliamo vogliamo tantissima roba abbiamo alcune pazzie da fare perché anche quella che ci è stata proposta questa mattina all'alba è una pazzia bella grossa tipo se andiamo se è una cosa che comunque dici una volta nella vita dobbiamo farla sì noi possiamo farle tra virgolette con aurora perché non è nulla di sconvolgente che ti scombussola tanto che sono belle avventure e quindi possiamo farle con aurora la prima notizia è fattore che aurora tornerà ufficialmente in nel 99 per cento dei video ok verrà ripresa come una volta si sarà sempre la faccina da cartone già un mese fa però incominciava a tentennare ok vabbè comunque tornerà molto più spesso rispetto magari tornerà carica lei sarà felicissima perché ogni giorno c'ha papà facciamo un video facciamo un video facciamo un video lei sì facciamo un video facciamo un video facciamo un video facciamo un video quindi vabbè questa è la prima notiziona poi non abbiamo altre che adesso vi spieghiamo allora notizia numero 2 come vedete questo video è uscito alle ore 14 e 15 abbiamo provato per una settimana a portarlo alle ore 19 dato che gran parte del pubblico ha richiesto di farlo uscire al 19 però abbiamo notato una cosa se lo facciamo uscire alle ore 19 e una persona non riesce a vederlo in premier quindi in diretta quando esce quella persona per tutto il resto della giornata 90 per cento non riesce più a vedere il video se noi lo facciamo uscire alle due alle 14 e 15 e quella persona comunque non è lo stesso in premier ha moltissime probabilità in più di comunque riuscirlo a vedere durante il resto della giornata esatto il dato che dobbiamo accontentare gran parte di voi dobbiamo farlo uscire il prima possibile quindi d'ora in avanti vi torneranno a uscire alle ore 14 e 15 come come sempre esatto e da pasquetta quindi da lunedì lunedì 18 da lunedì di pasquetta alle ore 19 usciranno i video del cartoon siamo tornati come vi abbiamo promesso abbiamo fatto un piccolo non era una promessa abbiamo fatto solo un piccolo momento di pausa perché comunque dovevamo riuscire a organizzare il tutto anche con il fattore dei video in sintesi anche il pubblico più piccolo verrà accontentato con il continuo delle avventure pazze di mike e laura in modalità cartone comunque come abbiamo già detto nel senso ci siamo fermati per un periodo perché appunto non riuscivamo più organizzarci in modo preciso con orari video far combaciare quelle del suo primo canale il cartoon eccetera eccetera invece adesso che comunque abbiamo trovato una soluzione riusciremo a portare anche le cartoon in modo molto più come si chiama regolare ok quindi con non promettiamo un video tutti i giorni però magari un giorno sì un giorno no potranno potranno venire magari anche solo lunedì mercoledì venerdì vediamo che il pubblico piace piace è normale più va su qualcosa aumentiamo anche la pubblicazione dei video quindi magari diventeranno anche tutti i giorni ma ora come ora tutti i giorni non si potrà ora come ora io direi di tenerlo lunedì il mercoledì è il venerdì sì più o meno sì che sono i giorni della settimana così sabato e domenica se non siete riusciti a vedere i video durante la settimana li recuperate eccetera eccetera esatto sul cartoon su questo sapete che escono i video tutti i giorni non vi preoccupate esatto poi abbiamo un'altra novità che non è una novità è un qualcosa da parlare qualcosa che è successo che vogliamo dire anche a voi è stato un argomento che è stato toccato in live sulla piattaforma viola diciamo piattaforma viola voi ci arrivate tranquillamente da soli di cosa stiamo parlando perché non si può dire quel nome su youtube l'altra sera abbiamo interrotto la live perché abbiamo interrotto la live cosa che non è mai successa perché abbiamo avuto persone che hanno incominciato a non offendere ma criticare non si può neanche a lamentarsi perché noi non li calcolavamo tra virgolette il problema è che quello che bisogna capire che su quella piattaforma comunque la gente scrive quindi i messaggi vanno su vanno su vanno su vanno su e noi dobbiamo cercare di stare dietro ad ogni messaggio il che è impossibile perché ovviamente più gente si crea meno riusciamo a stai sudata Laura no 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 è lucido così è lucido alla fronte è una palla da bullying e meno riusciamo a stare dietro alle persone la gente si vede la camiontina sotto non volevo farla vedere ma si vede vabbè ok quindi comunque noi non è che lo facciamo apposto a dire no ok a te non rispondiamo no ok a te rispondiamo assolutamente per noi siete tutti uguali diamo la stessa importanza a tutti il problema è che tante volte non riusciamo a stare dietro ad ogni messaggio ma questo non vuol dire che noi non vogliamo leggere il messaggio perché proprio non riusciamo a leggerlo puoi continuare te posso continuare io sì allora il nostro oltre che una passione comunque è soprattutto un lavoro anche quindi venire denigrati da delle persone che comunque non apprezzano questo ti fa rimanere tanto male cioè io ci rimango un sacco male alcune volte quando vengo criticato ma non quando mi critichi di persona perché di quello proprio mi entra da una parte e mi esce dall'altra ma quando mi critichi sul mio lavoro che è un qualcosa che comunque ci metto anima e cuore cerco di starci dietro più tempo possibile questo mi fa male mi fa molto 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 male e non non ne capisco il perché 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 comunque siamo gli unici a salutare in ogni live siamo gli unici a calcolare le persone che ci seguono calcolare le persone che ci seguono esatto siamo gli unici a iniziare a salutare perché ormai da 4-5 video che salutiamo ogni singola persona tutti i giorni da 10 giorni ormai quasi non c'è ogni singola persona li sentendo salutiamo due persone ogni giorno anche su youtube in live li salutiamo penso che non ce lo meritiamo tutto ciò queste sono le news volevamo comunicarvele perché sapete che diciamo una volta al mesetto ci stanno questi video per fare dei piccoli aggiornamenti nulla aspettatevi delle cose pazzesche anche con aurora soprattutto anche con aurora stiamo abbiamo tante idee abbiamo già alcuni progetti organizzati dobbiamo solo attendere la data ma soprattutto sta arrivando la casetta perché manca meno di una settimana secondo i calcoli teoricamente adesso non dipende da dove stiamo solo tenendo le chiavi beh ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti perché siamo sempre di più Guida Mike Mau che sta ancora dormendo e allora che giro per il giardino è tutto ci vediamo in un prossimo video ciao oh no baby here we go oh guata 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 Grazie a tutti.